Allora, io non mi voglio incazzare di primo mattino, non mi voglio incazzare di primo mattino, ma cazzo non è possibile! Spacco tutto, spacco tutto perché veramente è una vergogna, una squadra di Serie A che fa una prova come quella con la Salernitana, di orgoglio, senza panchina e niente, deve, dobbiamo continuare ad andare avanti senza giocatori. Perché? Perché questo cazzo di campo d'allenamento dopo mesi non può essere cambiato. Allora, le news di prima mattina che mi sono appuntato stamattina, bellissime news di prima mattina proprio per svegliarsi alla perfezione. Messias, lesione all'adduttore, un mese e mezzo di stop, quindi vuol dire, a parte, mi dispiace un sacco per Messias perché veramente ha avuto una sfortuna quest'anno che è una roba incredibile, ma a questo punto se dobbiamo dare la colpa al campo di allenamento fa incazzare perché come ha detto Gilardino se è uno scontro di gioco ci sta, va bene, ma se dipende sempre da questi cazzo di campi di allenamento a un certo punto basta, basta perché la pazienza ha un cazzo di limite. Allora Messias, un mese e mezzo fuori, assurdo, incredibile, vuol dire che lo recupereremo, forse se tutto va bene salterà ovviamente la fine del mese di gennaio, sicuramente almeno tre quarti del mese di febbraio, forse se va bene per fine febbraio i primi di marzo riusciremo a rivedere Messias in campo, determinante per il Genua e deve stare fuori un mese e mezzo. Ma attenzione perché non abbiamo ancora finito, Abbs che è rimasto infortunato negli ultimi allenamenti della settimana in questa falcidia per questo cazzo di campo di allenamento, anche lui un mese di stop, ha avuto una lesione grave, distorsione al ginocchio sinistro, anche lui un mese fermo. Abbs non è un titolare ma fa parte di quegli uomini che dalla panchina quando entrano è uno di quelli che ha dato molto ed è sempre stato determinante nel momento delle sostituzioni, quindi un'altra pedina che andiamo a perdere. Sabelli invece, grazie a Dio, riusciremo a recuperarlo probabilmente, ho detto, probabilmente, quindi non è certo, per la settimana entrante, quindi con la partita con Lecce in casa, che è una partita fondamentale per proiettare il Genua nella prima decina di squadre del campionato, grazie a Dio recuperiamo The Winter, Martin, anche lui, al flessore, distrazione al flessore, probabilmente non ci sarà sempre dovuto al maledettissimo stracazzo di campo di allenamento, quindi anche Martin almeno salterà una settimana e forse questa falcidia è finita. Che vengano presi dei provvedimenti, signori, perché veramente la mia pazienza, se sono la persona che ha più pazienza di questo pianeta, trovarne uno più di me, sto cominciando a incazzarmi anch'io, perché se sono dei piccoli infortuni è una cosa che magari uno può anche digerire malamente, se la butta giù e va bene così. Ma quando ti devi trovare i giocatori determinanti che devono star fuori un mese, un mese e mezzo, dovuti a un campo di allenamento, la pazienza ha un limite. Mi sono appuntato a un'altra cosa molto simpatica. Sono andato a cercarmi la media delle squadre di calcio, di come le squadre di calcio hanno potuto giocare a formazione completa quante partite di media fino a questo momento. Sono state giocate 21 partite. Bene, il Genoa è ultimo, ha giocato una partita sola su 21 con la squadra al completo. Adesso io mi chiedo, le partite sono passate, mesi ne sono passati, ormai il tempo è trascorso abbastanza in fretta, siamo già nella seconda parte inoltata del campionato. Com'è possibile che ancora non si sia risolta questa situazione di questo campo e si continui a mandare Gilardino in campo con gli uomini contati per via di questi infortuni assolutamente stupidi? A questo aggiungiamo che nella settimana entrante ci sarà anche la squalifica, chiaramente dovuta per le ammunizioni di Frendrup e di Badel. In campo andremo io, mia madre e il signore che sta attraversando la strada avanti a me che lo salutiamo perché mi vede abbastanza incazzato. Risolviamo questa situazione. Adesso siamo già a martedì, metà giornata, quasi mercoledì entrante tra un po' di ore. Io spero vivamente che questa situazione di mercato si sbrighi. Non possiamo neanche recuperare Boinen che ha un infortunio, anche lui arretrato e sta recuperando, ne avrà almeno per un paio di settimane, quindi va ad aggiungersi a questa lista. Veramente la situazione sta cominciando a diventare drammatica. Può andar bene a Salerno, può andar bene anche in altre situazioni, ma non penso che questa situazione andrà sempre bene e ci permetterà di fare risultati. Io non ho veramente parole comunque, non ho veramente parole perché mi sembra una situazione paradossale, quasi ridicola arrivati a questo punto qua. Speriamo che la settimana, news di mercato, adesso non ne sono ancora arrivate, speriamo che ci sia qualche news di qualcuno entrante perché davvero la panchina non si fa corta, si fa inesistente se continuiamo in questo modo. Comunque ragazzi, news velocissime della mattina, registrate veramente più che altro perché dovevo sfogarmi. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti per favore, lasciatemi un'iscrizione al canale e un bel like per supportare i video di Guardo il Genoa con papà. Speriamo di risentirci a breve domani con delle news positive. Spero di mercato, spero!